ma c'è prusciano a tutti qua è sceso eccolo ma c'è un caldo che non c'è un caldo Stryk su noi. Un'osom è nuovo e c'è gli EVPPC. Io ho le gambe fatte. Sono sceso e sparo da destra con l'incontro. Stryk su tutte le parti. Stryk su tutte le parti. Collegato pure io. Aspetta. MAPCAT è nuovo. Questa è il Warhammer. Cazzo è la Warhammer. MAPCAT è il Noish Bush. Questa è il DERVISH. Io sono sotto un corso. Non c'è l'ho rancato. Foglio la mano. Non c'è l'ho rancato. Eh eh. MAPCAT è uno. Eh ma... Un altro MAPCAT. 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 MAZZO è proprio cor Taiwan. Un altro MAPCAT. N布 e dueきますi che ci sono rompito. uwagę ma azcealle. Ben io. Mathcati da sbCOM. Eh, se piccolò là mi fotte il cavolo, che cazzo l'invio? Vedi che è messo a merda, non vede, se gli fa il cd, è giù, deve essere giovane. Eh, gli devo piccare da qua, è la merda. Ehi, però, porco Dio. Grande! Questa va su YouTube, ovviamente. Che monnezzari. Che stai registrando? Certo.